questa mattina mercoledì 8 settembre 2021 i fan dei per gem di edy vedder si sono svegliati con una grandissima inaspettata sorpresa pubblicazione del nuovo singolo del cantante dei per jam long way che precede la pubblicazione del suo terzo album solista intitolato ortling che uscirà per la sua etichetta discografica distribuita dalla republic records e non si sa ancora quando uscirà il terzo disco solista di eddy ma si parla di un'uscita a breve per ora abbiamo long way e tra qualche giorno sarà disponibile anche the haves che secondo pezzo scritto e inciso per il terzo disco di eddy che dire di long way long way sta un po dividendo il web vedo pareri discordanti alcuni che la amano e altri che la odiano ma ormai sappiamo che nel mondo dei per jam c'è spazio per tutti e ma long way è un pezzo che prima di tutto mi ha spiazzato parecchio perché presupponevo era solo una un'idea che io avevo che un terzo lavoro di eddy sarebbe uscito ma molto più in là che non nel 2021 soprattutto a l'annuncio di questo nuovo lavoro arriva a dieci giorni o poco più due settimane dall'uscita di flag day che non è un disco solista di vedder ma che comunque è composto da parecchie canzoni scritte o coscritte da lo stesso cantante per germa in questo caso mi ha spiazzato long way perché io pensavo che il percorso solista di vedder fosse radicalmente differente da quello dei per germa quindi come ci aveva già abituato con into the wild nel 2007 e ukulele songs nel 2011 vale dire dieci anni fa esatti e le atmosfere nei suoi dischi sono sempre state acustiche e sono sempre state minimali in questo caso la grande sorpresa per tutti i fan compreso me di questo pezzo è che c'è una band formata da eddy quantomeno per questo brano ma poi dopo ne parleremo ma sono sicuro che ci saranno altre collaborazioni nel disco è una band che ha formato per incidere questo pezzo è un gruppo formato da chel smith dei red or chili pepper alla batteria josh klinghoffer che sarebbe l'ex chitarrista dei chili peppers che ora esce ha fatto uscire un paio di dischi in solista col nome di plural one che vi assolutamente vi consiglio di ascoltare e poi chi c'è ancora andrew watt grandissimo prima di tutto produttore ma musicista ma soprattutto produttore che ha lavorato con un sacco di persone da justin bieber a evc per dire e altri grandi nomi come elton john che appena mixato un nuovo pezzo di elton john che finirà in the lockdown session dove tra l'altro ci sarà apparirà lo stesso eddy vedder e poi sempre in questo gruppo formato per l'occasione c'è anche ben montec che è il tastierista degli airbreakers di tom petty la grande leggendaria stella del rock californiano che purtroppo è deceduta da quattro anni fa non solo nel nella canzone compare anche arper vedder che è la secondo genita di eddy vedder e ovviamente e che fa un po la doppietta con la sorella maggiore olivia che compare invece in due pezzi di flag day ma non siamo qui per parlare di flag day parliamo appunto di long way e che è un pezzo totalmente ton tom pettiniano potrebbe dire nel senso che se voi missate questo disco qua dietro con questo e questo otterrete la musica di long way perché è un grandissimo enorme infinito tributo al rocker della florida ci tom petti c'è negli arrangiamenti c'è nel ritmo nella melodia nel coro e c'è in ogni secondo di questa canzone tra l'altro con scritta insieme a watt smith e klinghoffer c'è tom petti all'ennesima potenza non è un mistero che vedder e ami da tantissimo tempo tom le prime cover che è di fece di tom petti sono nel lontanissimo ormai 1994 quando iniziò a suonare dal vivo e want back down ma anche più recentemente per dire a firenze solo due anni fa durante un concerto solista sono la magnifica wildflowers e questo pezzo musicalmente è totalmente figlio appunto della produzione di tom petti il testo è un testo abbastanza semplice che racconta di questa storia di questa ragazza in fuga di un amore andato male insomma è un testo ma abbastanza semplice comunque vedderiano ma anche qua più alla tom petti che alla vedder ma comunque ci sta sempre in questa ottica di tributo ovviamente nessuno sia dell'entourage di vedder che lo stesso eddi hanno commentato questa long way come un tributo a tom petti però è molto molto chiaro da dove provenga l'intuizione per aver scritto questo pezzo è molto interessante anche la sezione ritmica che comunque andrew watt oltre a produrre il pezzo è probabilmente a produrre l'intero terzo disco di eddie vedder si occupa sia del basso che della chitarra e col suo basso e la batteria di sir smith c'è un ottimo lavoro ritmico sorretto da una chitarra di klinghoffer che se all'inizio in una solo più o meno a metà canzone e riesce a convincere ma rimane un po così dopo c'è proprio un assolone che è facilmente intuibile chi è dietro la chitarra di questa solo e non solo a un certo punto nel bridge del pezzo compare una tastiera che appunto tank il tastierista degli air breakers che erano il gruppo di tom petti e qui si chiude proprio questo infinito come dicevo primo omaggio a tom petti il pezzo mi ha mi ha conquistato di certo non è un capolavoro ma è un pezzo di rock radiofonico e rock radiofonico alcuni lo potrebbero definire dead rock ma non siamo dalle parti dei wilco ma più troppo da ma più che altro da quelle parti di di quel rock mainstream di periferia che ascoltava molto vedder quando era un ragazzino che andava forte fortissimo negli anni 80 è un pezzo figlio anche degli anni 80 perché no a livello musicale però si sente che dietro e finalmente mi viene da dire c'è qualcuno di giovane che suona con vedder in questo caso non c'è smith che è più vecchio di eddi ma klinghoffer e watt che watt ha 30 anni e klinghoffer ne ha poco più di 30 adesso non ricordo modo l'età dell'ex chitarrista dei chili peppers che tra l'altro viene è stato invitato da vedere in queste session non è la prima volta che vedder con collabora con josh e ricordiamo che doveva essere l'opening act del tour poi posticipato ha dato da definirsi dei pergemi in supporto a gigaton e già quest'anno inizio quest'anno quando fecero il vax live il concerto appunto per sensibilizzare sui vaccini e su vari vaccini ai paesi del terzo mondo vedder suonò con lì goffer e la sezione ritmica dei white reaper che non mi stupirei troppo di trovare in altre canzoni di questo horror thing e che dire di altro watt ha detto una cosa molto interessante ho letto leggevo prima un'intervista dove diceva che si sono trovati insieme in studio in primavera estate di quest'anno e come una vera rock band dovrebbe fare hanno iniziato a gemmare e da qua da queste session sono e nata long way e probabilmente sono nate altre canzoni e presto per dirlo perché non si sa né tracklist né come dicevo prima data di uscita ma mi aspetto comunque un disco rock di vedder ovviamente non alla per jam se qualcuno ha letto in molti commenti sul web che molte persone dicono ma non suona come per jam ovviamente altrimenti avrebbe fatto un altro disco come per jam ecco molto semplicemente odio quegli autori o cantautori che mettono da parte la loro band principale per rifare il suono della loro band origine con altri è una cagata e non ha senso vedder non fa questo una canzone come long way non non sarebbe mai potuta appartenere al al alla lista di canzoni scritta dei per jam in tutti questi anni perché si sente a che ci sono dei musicisti che non sono i per jam e b per dire never destination che comunque a dei never destination in gigaton dei per jam che ha dei punti in comune con ton petti si sente molto chiaramente che dietro nella canzone suonano i per jam in questa lo si sente benissimo che non suonano i per jam quindi questo è eddie vedder con amici amici conosciuti che fa una grande canzone di rock possiamo dire radiofonico mainstream non c'è nulla di male negli ultimi anni per jam comunque si sono parecchio ammorbiditi sia sulla scelta di suoni e così ciò che intriga maggiormente è il percorso artistico di vedder che cambia radicalmente da un momento all'altro dopo anche per dire l'anno scorso matter of time una ballata pianistica che ricordava clamorosamente elton john e che continuava comunque questa sequenza di canzoni scritte da vedder in solista comunque molto intime e comunque con una base acustica questo pezzo è il primo pezzo di vedder solista che completamente cambia la strada del suo percorso artistico e penso che sia la cosa più interessante della canzone e vedremo il resto quando uscirà come sarà tra qualche giorno come dicevo prima uscirà the haves che è il secondo pezzo tratto dal terzo album studio di eddie e niente per questa volta è tutto la recensione più corta nel mentre che aspettate earthling andatevi ascoltare our promises e questi due dischi che con l'estate che sta finendo sono ancora migliori ascoltandoli in macchina ciao